Musica Le reazioni dopo le cariche ai cortei degli studenti di Pisa e Firenze rimbalzano anche qui in consiglio regionale dalla discussione tuttavia non emerge un documento unitario scopriremo le differenti valutazioni parleremo anche delle polemiche dopo una frase detta da una consigliera durante il dibattito violenza di genere femminicidi la piaga continua e fa nuove vittime anche in Toscana come la povera Maria uccisa dal marito lunedì scorso a Fornaci di Barga in Garfagnana il consiglio approva una legge per la presa in carico e la rieducazione degli autori di violenza Porti ha approvato il bilancio dell'autorità regionale che ha sede a Via Reggio e sottoscritto il documento di programmazione strategica di sistema del martirreno settentrionale quindi dei porti di Livorno e Piombino scopriremo di cosa si tratta e perché è importante torneremo anche a parlare della sicurezza sui luoghi di lavoro in questi giorni si sono svolti i funerali delle cinque vittime del cantiere di Firenze intervenire per fronteggiare questo fenomeno è una priorità di tutto il consiglio prima di entrare nel vivo degli argomenti però un annuncio Andrea Ulmi lascia la Lega e aderisce al gruppo misto che si chiamerà adesso gruppo misto merito e lealtà Ulmi resta comunque all'opposizione Si svolge il secondo giorno qui in aula la discussione sui fatti di Firenze e Pisa le cariche al cortello degli studenti che tante polemiche hanno provocato in tutta Italia nello stesso momento si apprendeva che la dirigente del reparto mobile della polizia è stata trasferita ad altro incarico ma il trasferimento era già programmato dicono fonti interne e il giorno dopo alla camera c'è stato l'intervento del ministro dell'interno che ha ripetuto il concetto già espresso dal presidente Mattarella quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è comunque una sconfitta ed è necessario svolgere ogni verifica con puntualità, obiettività e trasparenza poi però ha aggiunto no a processi sommari alle forze di polizia un intervento che non ha sopito le divisioni che abbiamo registrato anche qui a Firenze dove peraltro c'è stato un incidente politico provocato da una frase della consigliera 5 Stelle Noferi disputi ai poliziotti forse meritati, parole che lei stessa dopo che c'è stato il richiamo del vicepresidente Scadamelli che in quel momento guidava i lavori ha definito sbagliate scusandosi con le forze dell'ordine voleva dire, ha aggiunto, che probabilmente i disputi sono stati una reazione alle manganellate è intervenuta su questo anche la capogruppo come ha detto la collega stessa è stato un errore di cui si è scusata perché come abbiamo detto le forze dell'ordine rappresentano la cittadinanza rappresentano la nostra sicurezza e sono assolutamente da difendere l'individuazione invece di chi ha delle responsabilità da qualunque parte esso sia all'interno delle forze dell'ordine o all'interno del gruppo dei manifestanti è un altro dei doveri che dovrà essere delegato a questo punto alla magistratura fallisce il tentativo di mediazione che alcuni consigliari di centrodestra avevano tentato riprendendo anche alcuni concetti espressi da Mattarella ma secondo la maggioranza non c'era la condanna per la violenza delle cariche il fatto che sia fallito questo tentativo provoca la reazione del portavoce dell'opposizione purtroppo il PD ha respinto queste proposte vuole andare il voto, forte di una maggioranza per mostrare muscoli ma soprattutto per continuare a strumentalizzare questi fatti e come si è sentito in aula a dare già delle sentenze e delle condanne quando in realtà ci sono delle indagini in corso e quindi credo che da un lato la procura, da un lato il ministero e quindi internamente le forze dell'ordine debbano procedere in maniera seria noi abbiamo fiducia nelle istituzioni, il PD continua a strumentalizzare e dunque sono due diversi i documenti tecnicamente le mozioni in discussione uno è della maggioranza insieme ai 5 Stelle è chiaro che noi vogliamo capire di chi è la responsabilità se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere con rigore senza eccessi per tutelare la salute dei cittadini, la democrazia, la libertà di manifestare purtroppo quello che abbiamo visto invece in piazza a Pise e anche a Firenze non apparteneva a questa categoria ma ci sono stati degli eccessi che sono stati oggetto di critica in primis del Presidente della Repubblica le cui parole noi sottoscriviamo i manganelli sono il fallimento probabilmente delle istituzioni dei rettori della comunità cattolica dello stesso sindaco di Pisa che ha sottolineato come quella città era ed è abituata a vedere altre cose è un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze la Toscana non è questo e quindi il diritto di manifestare la libertà si esercita non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva l'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto è successo prende distanza e chiede chiarezza la Toscana è un'altra cosa la Toscana è una terra di tolleranza di libertà, di diritti e come tali ragazzi della nostra regione hanno diritto e dovere di manifestare di esprimere le proprie idee bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione dispiace perché magari si poteva creare un atto unitario invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile difendere quanto è successo non compete diciamo alle forze politiche da parte nostra va anche la solidarietà ovviamente alle forze dell'ordine in generale per il lavoro che costantemente quotidianamente svolgono sentiamo su questo proprio il Movimento 5 Stelle questa chiarezza servirà a ricucire appunto un tessuto che si sta sfaldando ho apprezzato le parole del Sindaco di Pisa ho apprezzato tutte le parole che trasversalmente sono andate verso la ricucitura come quelle dei rettori delle tre università di Pisa e come quelle dell'Arcivescovo e di tutti coloro che invece hanno sostenuto entrambi i diritti soprattutto quello alla libertà di manifestare perché diversamente da come ha detto un ero parlamentare pisana non c'è necessità di autorizzazione per una manifestazione perché la manifestazione secondo l'articolo 17 della nostra Costituzione è libera e soltanto nell'epoca del fascismo c'era bisogno di un'autorizzazione questo teniamolo presente perché rischiano di cadere le basi della nostra Costituzione e del nostro vivere civile l'altro documento è presentato da Lega e Fratelli d'Italia a Pisa c'erano tantissime persone che erano in piazza per manifestare pacificamente la propria idea in merito al conflitto tra Israele e Pai Hamas quindi c'è un conflitto in corso e c'erano tantissime ragazze e tantissime ragazze erano in piazza a manifestare pacificamente il loro pensiero a loro va un grandissimo abbraccio e tutta la solidarietà possibile da chi ripeto nei movimenti giovanili ci sono cresciuti Orteni ho fatti tanti ai tempi delle scuole e ai tempi dell'università quindi un abbraccio enorme lo stesso identico abbraccio che va a tutti quei poliziotti che hanno agito in maniera responsabile rispettosa delle regole e rispettosa di quella divisa che indossano e che rappresenta lo Stato italiano La differenza sostanziale oggi è che se un poliziotto sbaglia è un poliziotto quindi c'è qualcuno che avvia un'azione disciplinare che lo può portare a avere una condanna Se un manifestante sbaglia purtroppo apre Facebook e trova leader politici che si spendono per fargli complimenti e fargli l'occhiolino Quello è sbagliato Alla fine il testo approvato è quello della maggioranza che in questo caso lo abbiamo detto è più larga Sul tema è intervenuto anche il presidente dell'Assemblea Io ho incontrato quelle ragazze e quei ragazzi li ho guardati negli occhi la loro paura, la loro ansia hanno paura di non essere liberi Il tema più grande oltre alla violenza di quelle manganellate che ha colpito ragazze e ragazzi inermi a cui va la nostra vicinanza il nostro fargli sentire che lo Stato le istituzioni ci sono e che non è la violenza barbara con cui un gruppo di poliziotti li ha aggrediti e c'è qualcosa di diverso ed ecco perché è stato importante il presidente Mattarella dicesse queste parole Lunedì scorso all'ora di cena si consuma un altro femminicidio in Toscana la vittima è Maria Battista Ferreira ad uccidere è stato il marito Vittorio Pescallini da cui ormai si stava separando un'altra tragedia che certo si poteva evitare perché gli uomini violenti possono essere eseguiti rieducati almeno questo è l'obiettivo della nuova legge toscana approvata a larga maggioranza primo firmatario il consigliere Andrea Valnucci Quali sono le novità? Le novità sono essenzialmente due la prima si riconosce il ruolo di vittime per colore che assistono a violenza e l'altra si istituiscono a livello regionale gli elenchi dei centri per gli autori di violenza Con la modifica alla legge è stato approvato anche un ordine del giorno sempre molto importante perché? Si va a determinare ad avviare un percorso per un'ulteriore revisione complessiva dell'impianto normativo del 2007 e si incentiva la promozione di una serie di percorsi nelle scuole all'insegna del rispetto reciproco e della non violenza quindi da questo punto di vista credo che sia stato fatto un buon lavoro un buon lavoro evidentemente rispetto a un tema che purtroppo lo vediamo anche nei fatti di cronaca di queste ore non smette di avere in numeri le caratteristiche di una vera e propria emergenza Vota sì anche l'altra gamba della maggioranza Italia Viva è importante che sia possibile per queste persone che riescono a denunciare la violenza e vogliono tornare a riappropriarsi la propria vita che sia possibile per loro raggiungere facilmente i centri ed essere inserite in percorsi che gli permettano di ritornare ad una vita serena di riappropriarsi la propria vita e quindi di guardare la fiducia al domani è altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti gli uomini sia possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno diciamo tutti i criteri accreditati presso le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la Regione io però ritengo che questo sia un tema che vada affrontato nelle scuole direttamente dalle elementari e c'è pure il sì dall'opposizione di Fratelli d'Italia un voto favorevole per nulla scontato ci siamo assunti come dire la responsabilità di dare un segnale politico importante oggi con la proposta di legge che è stata votata iniziativa della maggioranza anche in Toscana a completamento di quella che è la legge che già prevede i centri per la violenza e quindi anche per l'accoglienza delle donne vittime di violenza oggi introduciamo anche delle strutture che possano in qualche modo supportare anche la riducazione e la presa in carico degli uomini che in qualche modo sono coinvolti in dinamiche di violenza domestica io credo che questo intervento debba essere eletto a completamento del quadro regionale ma soprattutto debba essere eletto non solo in un'ottica di prevenzione ma soprattutto debba funzionare anche per la presa in carico ad esempio di persone che nel 90% magari si sono macchiate anche di reati proprio su queste materie quindi sul tema della violenza ecco noi come Consiglio regionale abbiamo dato un segnale anche di evoluzione sotto questo aspetto e se davvero vogliamo che questi centri funzionino devono avere anche una funzione estremamente educativa ripeto magari nei confronti di persone che hanno anche commesso reati la nuova legge insomma prevede che siano istituiti l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case di fugio e l'elenco dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale sulla formazione la regione e le province devono promuovere iniziative e moduli il provvedimento non comporta nuovi oneri per la regione al voto si sono astenuti la Lega e il Movimento 5 Stelle purtroppo per come è stata impostata per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti e non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico ecco il motivo per cui seppur a malincuore abbiamo dato un voto di astensione anche perché all'interno di uno di questi articoli c'è un riferimento a uno sforzo di ricongiungimento relazionale che a nostro avviso può essere anche pericoloso va contro anzi quelle che sono le raccomandazioni degli esperti che invitano a non fare quell'ultimo incontro quell'ultimo appuntamento e di lasciare che le strade di due persone si separino specialmente quando in mezzo ci sono anche dei minori ecco il motivo per cui con dispiacere ci siamo astenuti ripromettendoci però di intervenire di nuovo su questa legge innanzitutto con dei finanziamenti che sono stati previsti invece nell'ordine del giorno al quale abbiamo votato a favore ma soprattutto con un'azione più incisiva dal punto di vista della programmazione regionale e dei contributi qui il consigliere Ulmi parla ancora da consigliere della Lega gruppo che però come abbiamo detto lascerà dalla prossima seduta il concetto il pensiero è sicuramente importante e noi siamo sostanzialmente d'accordo non nelle forme in cui è stato proposto perché ci siamo astenuti ci eravamo astenuti in commissione valutandone volendo valutare un pochino più dettagliatamente l'argomento la legge 57 del 2007 secondo noi è già sufficiente o meglio è migliorabile ma non con questa proposta di legge e con questo ordine del giorno perché sostanzialmente non dice molto l'ordine del giorno eravamo anche disposti a votarlo però era fin troppo specifico nella narrativa cioè si parla di maschilismo e noi avevamo chiesto di togliere questa parola perché era nella narrativa già un giudizio due atti come dicevamo riguardano i nostri porti ascolteremo commenti e interviste tra sette giorni in sintesi ora diciamo che è stato approvato a maggioranza con molto ritardo evidentemente il bilancio di esercizio 2021 pensate dell'autorità portuale regionale l'utile di esercizio è di 641 mila euro il 20% va nel fondo di riserva legale l'80% viene riassegnato alla regione che lo investe per il dragaggio straordinario dopo l'incagliamento dei pescarecci l'unanimità si raggiunge su un documento che impegna la giunta a monitorare l'attività dell'autorità portuale d'ora in poi l'altro documento riguarda invece i porti di Livorno e Piombino ed è il documento di programmazione strategica di sistema DPSS del Martirreno settentrionale individua gli obiettivi di sviluppo dei porti gli ambiti portuali la ripartizione degli ambiti portuali i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio con i singoli porti è finalizzato a sottoscrivere l'intesa tra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ok è arrivato dalla maggioranza si sono astenuti Lega e Fratelli d'Italia il Consiglio ha anche approvato il bilancio preventivo 2024 dell'ente Acque Umbre Toscane l'ente si occupa della gestione di quattro importanti dighe che sono quelle di Montedoglio Sovara Chiascio e Calcione e di parte di progettazione e esecuzione delle opere per le acque irrigue spiccano i 25 milioni di euro che sono previsti per l'esecuzione di nuovi lavori Due temi di stretta attualità coinvolgono ancora tutta l'Aula l'impegno per la sicurezza sul lavoro dopo la tragedia del cantiere del centro commerciale di Firenze è il primo questi sono stati anche i giorni del lutto e dei funerali dei cinque lavoratori morti ma sono stati i giorni nei quali la politica e le istituzioni si sono fatte sentire anche a livello interregionale perché nella conferenza delle assemblee regionali proprio Antonio Mazzeo come abbiamo già detto si occuperà del coordinamento per lavoro e sicurezza lo farò insieme a tutti gli altri presidenti pensando che finché anche solo una persona morirà sul luogo di lavoro ognuno di noi deve sentirsi parte di quella responsabilità subito dopo l'alluvione dei primi di novembre il gruppo di Fratelli d'Italia sostenuto poi dagli altri di centrodestra aveva già chiesto l'istituzione di una commissione regionale d'inchiesta ora questa proposta è stata formalizzata per sciogliere dicono i capi gruppo in una nota congiunta tutti gli interrogativi che ancora ci sono su quello che è accaduto sono stati tanti gli eventi anche in questi giorni che vi abbiamo raccontato puntualmente nei nostri telegiornali vogliamo però riprendere due in particolare uno è quello che riguarda la riflessione sul progetto il porto delle donne le donne nel settore marittimo e portuale perché no ideato dall'assessore al porto del comune di Livorno realizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione rete con l'università di Pisa con il CNR ne abbiamo parlato tante volte qui l'obiettivo è quello di far conoscere il lavoro delle donne nel comparto marittimo e portuale sono al 2% della forza lavorativa nel campo marittimo al 16% a livello globale per la forza lavoro nei porti l'altro evento di cui parliamo qui è in realtà la tappa di un percorso più vasto quello del core come il comitato regionale per le comunicazioni che sta girando tutta la Toscana per far conoscere se stesso i suoi servizi qui siamo a Siena il presidente Meacci spiega le funzioni principali dell'ente che guida una è quella della vigilanza sulla programmazione radio televisiva che poi trova anche un significato particolare durante la campagna elettorale in occasione della par condicio e poi ci sono tante altre funzioni legate al tema per esempio dell'educazione digitale nei confronti di ragazzi delle scuole medie attraverso il patentino digitale facciamo dei corsi di alfabetizzazione digitale per navigare in modo consapevole e sicuro e sappiamo quanto questo tema sia importante e sentito anche in questa fase attuale e poi tante attività tra cui una che impegna molto il core di grande ricaduta sulla vita quotidiana dei cittadini che è quella del concilia web vale a dire il fatto di svolgere una funzione di conciliazione a titolo gratuito tra i cittadini e le compagnie telefoniche rispetto a tutte le problematiche che possono sorgere il vicepresidente del consiglio regionale Scaramelli accoglie i membri del comitato insieme alle consigliere Paris e Rosignoli il consiglio regionale della Toscana ha più organismi di garanzia questo specifico sulla comunicazione e non solo rispetto anche a tutta la conoscenza dei nuovi metodi di comunicazione la comunicazione sta cambiando e come tale ci sono tutte le testate giornalistiche radiofoniche non solo c'è tutta la questione dell'online c'è tanta comunicazione da dover garantire oggi il tema della comunicazione è diventato veramente fondamentale c'è tutta l'alfabetizzazione digitale rispetto ai nuovi strumenti di comunicazione serve un organismo che sia regolatore sia di garanzia sia di supporto alle istituzioni al mondo delle associazioni alle imprese ma che sia anche dalla parte di coloro che poi l'informazione la fanno è un motivo anche per ringraziare tutte le testate giornalistiche tutte le televisioni tutte le radio tutti i siti perché l'informazione ancora di più nel mondo di oggi in un mondo globalizzato dove tante volte l'informazione può essere ovviamente adotta come elemento anche strumento non soltanto di propaganda ma non solo ma anche di guerra politica e non solo serve un soggetto che poi garantisca e di anche valore alla professionalità di chi questo lavoro lo fa sul valore di questa iniziativa intervengono anche due componenti del Corecom è stato veramente un tour molto importante perché il Corecom troppo spesso non è conosciuto in tutte le mansioni che svolge e ci sembrava importante che in tutte le province venisse conosciuto venisse conosciute tutte le mansioni appunto che sono veramente tante sia a livello di controllo nelle comunicazioni ma anche proprio nelle comunicazioni sono per esempio moltissimi bandi che vengono indetti ogni anno dal Corecom ma c'è per esempio quello sulla miglior tesi in comunicazione che viene data a una tesi magistrale nelle scuole toscane c'è quello per la Toscana che fa bene ci sono molti incontri per esempio fra le funzioni che diciamo la maggior parte dei cittadini conosce quello delle controverse telefoniche e pay tv però anche la funzione più conosciuta in realtà poi non è conosciuta in tutti i meccanismi e quindi il nostro compito è quello di incentivare facendo appunto questo tour nelle varie città di incentivare l'accesso dei cittadini a questi meccanismi che sono gratuiti oggi ci fermiamo qui ci rivediamo venerdì prossimo 8 marzo sempre alle 21.10 dopo il nostro Tg della Sera a tutti i meccanismi Grazie.